Il momento resta difficile ma alcuni dati sono incoraggianti e lasciano ben sperare per il futuro. Luci e ombre nell'annuale rapporto sullo stato dell'economia della provincia di Avellino presentato dalla Camera di Commercio. Tra le note positive c'è da evidenziare il saldo positivo tra apertura e chiusura delle imprese che fa registrare un più 0,3%. Sono quasi 600 le nuove imprese guidate da giovani sotto i 35 anni. Un'inversione di tendenza si registra anche sul fronte della disoccupazione che passa dal 15,2 al 13,6. Dunque gli occupati aumentano anche se spesso si tratta di lavori flessibili. Un vero e proprio boom fa invece registrare il settore vitivinicolo dove le esportazioni schizzano del più 12%. Tra i fenomeni critici invece evidenziati dal rapporto c'è la crescita della cassa integrazione addirittura più 40% nei primi quattro mesi del 2014 e poi il crollo del turismo con un pesante meno 15% e la scarsa dotazione infrastrutturale della provincia di Avellino. Il rapporto è stato presentato all'interno della giornata dell'economia organizzata dalla Camera di Commercio. Quest'anno a me piace enfatizzare i dati positivi perché anche nell'analisi dei dati negativi da un'attenta lettura si capisce che effettivamente la crisi è alle spalle e alle spalle perché alcuni parametri sono migliorati ma soprattutto c'è molta vitalità e iniziamo ad analizzare questi dati. Un dato enorme che tra altre cose abbiamo verificato proprio perché anche a noi ha sorpreso è che questa provincia rispetto al 2012 quindi nel 2013 abbiamo avuto circa il 5% in più di occupati, il 5% di più occupati significano 7 mila unità e il dato ci viene poi anche, il dato l'abbiamo anche verificato poi con una riduzione importante del ricorso alla cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria. Quindi occupare di più è la risposta assolutamente determinante perché l'occupazione significa lavoro, significa nuovo reddito, significa far ripartire l'economia, un'economia dei consumi che nel 2013 segnava ancora il passo ma non ce ne erano dubbi con un meno 3% per quanto riguarda il dato sui consumi, stiamo parlando di circa 200 milioni in meno di spesa. Un altro dato che mi lascia ottimista è la dinamicità dell'impresa, l'anno scorso sono sì state chiusse circa 2 mila imprese ma ne sono nate 2.500 e tra questi il dato più bello è che di queste imprese circa 1.000 sono under 35, under 35 significa che i giovani iniziano a avere voglia di fare impresa. Allora coniugare tutti questi dati ci dice che ormai il pessimismo, l'idea di aspettiamo cosa ci riserve il futuro insomma ci sia alle spalle.